Mazzara controlli dei carabinieri scattano un arresto e tre denunce. Marsala sorpresi mentre trainano una barca rubata, denunciati dai carabinieri i due giovani. Tra appena i controlli straordinari del territorio, due persone arrestate dai carabinieri. Elezioni presentate alle liste per le regionali in corso 12 mazzaresi per un seggio a Lars. Calcio per uno turno di coppa finisce in perità il mece di andata tra Mazzarese e Mazzara. Benvenuti al Tg Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Due persone arrestate, altre sei denunciate per vari reati dai carabinieri della Compagnia di Trapani, i particolari nel servizio. I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno effettuato lo scorso weekend una serie di servizi di controllo del territorio con il supporto dei militari del Reggimento Sicilia. Il bilancio è di due persone tratte in arresto e altre sei denunciate per vari reati. Un 35enne trapanese è stato arrestato per il reato di evasione. L'uomo, pur essendo sottoposto ai domiciliari, è uscito di casa ed è stato rintracciato dai militari per le vie della città. Per un 34enne invece, ricino, è scattato l'arresto a seguito di un'ordinanza emessa dalla sezione penale della Corte d'Appello di Palermo con la quale è stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. L'uomo, infatti, è stato sorpreso più volte fuori dalla propria abitazione. Due persone invece sono state denunciate rispettivamente per porto di armi atti a offendere per la violazione degli obblighi nerenti e la sorveglianza speciale. Per altre due persone la denuncia è scattata invece per aver guidato le rispettive auto senza patente di guida in quanto revocata. Infine, altre due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri, infine, hanno segnalato alla Prefettura di Trapani tre persone come assuntori di sostanze stupefacenti. Due marsalesi sono stati denunciati con l'accusa di ricettazione dai carabinieri il servizio. Due marsalesi sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia Lili Betana con l'accusa di ricettazione. I due uomini di 24 e 30 anni sono stati trovati in possesso di una barca di 6 metri e mezzo risultata rubata poche ore prima da un fontile nel Trapanese. Il furto è stato segnalato dal proprietario della barca che ha contattato la sala operativa della caserma dei carabinieri. L'imbarcazione, infatti, era dotata di un GPS e quindi i carabinieri sono riusciti subito a localizzare il natante, le due persone che la stavano trainando in acqua con un'altra imbarcazione nella zona dello stagnone. I militari, quindi, si sono finti membri dell'equipaggio di un peschereccio per raggiungere i due uomini e fermarli. I due giovani hanno cercato di giustificarsi dichiarando che erano andati a far pesca su bacque a largo di Favignane che tornando avevano notato una barca alla deriva e che avevano deciso di trainare per i due marsalessi così scattata la denuncia mentre la barca è stata riconsegnata al proprietario. Controlli dei carabinieri. Anche a Mazzara scattano un arresto e tre denunce. Sentiamo. Un arresto e tre denunce. Questo è il bilancio di una serie di servizi di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo. L'arrestato è un trentenne mazzarese. I militari sono intervenuti a casa di una donna minacciata dal giovane. I carabinieri hanno trovato il trentenne, figlio della donna, in forte stato di alterazione psicofisica che ha minacciato e aggredito fisicamente la madre. Il giovane ha opposto resistenza nei confronti dei militari ed è stato quindi arrestato. Il mazzarese durante il rito per direttissima è stato sottoposto all'obbligo di dimora con l'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni. Un serenitano di 60 anni e un trentatrenne mazzarese sono stati invece denunciati per rapporto abusivo di armi perché durante il controllo sono stati trovati con dei coltelli a serramanico di genere vietato. Una donna di 35 anni infine è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo con l'alcol test la 35enne è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore al consentito. Termina qui Tg Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con Tg Vallo News. Benvenuti al Tg Vallo News. Attivato il trasferimento di migranti da Pantelleria giunti sull'isola nei giorni scorsi durante alcuni sbarchi lo ha ressonato la prefettura di Trapani. Dopo la partenza di un primo gruppo di 80 immigrati avvenuta nella serata di sabato ieri sono partiti altri 170 migranti avvalendosi dei traghetti di linea della disponibilità della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Analogo trasferimento è stato effettuato sempre nella serata di sabato anche presso le isole di Favignane e Marettimo interessate da piccoli sbarchi. Una paziente ricoverata all'ospedale Abele Iello di Mazzara ha voluto ringraziare il chirurgo Pietro Fazio e la sua equipe chirurgica. La paziente aveva subito un intervento fuori dalla Sicilia rientrando a casa però si è sentita male ed è stata portata d'urgenza all'ospedale mazzarese in pericolo di vita. Il dottore Pietro Fazio, caduato dalla sua equipe chirurgica, dagli anestesisti e dal personale della sala operatoria ha eseguito un delicatissimo intervento che è durato otto ore, scrive la paziente che vuole ringraziare il medico e tutti quelli del reparto di chirurgia dell'ospedale mazzarese. Ed ora la pagina dell'informazione elettorale. Parliamo di elezioni regionali, sono 12 mazzarese candidati all'Assemblea regionale siciliana e il servizio. Dopo quelle per le politiche anche le liste per le elezioni regionali del 25 settembre prossimo sono state chiuse venerdì pomeriggio ed è dunque ufficialmente iniziata anche la campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e l'elezione del nuovo presidente della regione. In provincia di Trapani sono state 15 le liste presentate per un totale di 74 aspiranti deputati regionali. Gli scranni in palio però sono appena 5 come nel 2017 la guerra elettorale dunque sarà molto difficile per tutti. Per quanto riguarda Mazzara del Vallo agli 8 candidati alle politiche si aggiungono altri 12 candidati a Sala d'Ercole. Angela Marino per la lista 100 passi per la Sicilia Giuseppe Bianco per il Partito Democratico Marico Opse e Giuseppe Bonanno per la lista Popolari e Autonomisti Pietro Marino per la lista Prima d'Italia Nicola Lagrutta per il Movimento 5 Stelle Tony Scilla per Forza Italia Vito Gancitano per la lista Nuova DC Silvia Bentivegna per la lista Italia Sovrana e Popolare Francesca Incandela per l'Azione Italia Viva Sergio Tancredi per Fratelli d'Italia Fabrizio Misuraca per la lista Orgoglio Siculo 12 mazzeresi in corsa dunque per conquistare almeno uno scranno in Assemblea regionale che si aggiungono agli 8 in corsa per Camera e Senato Finirà oggi alle 16. All'ordine al giorno sono inseriti 8 punti tra questi la surroga del consigliere Andrea Marino deceduto nelle scorse settimane l'esame del documento unico di programmazione 2022-2024 il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 l'esame del bilancio di previsione 2022-2024 Termina qui TG Vallo News Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina Benvenuti al TG Vallo terza pagina Il comune di Marsala ha reso noto che è stato prorogato al prossimo 2 settembre il termine di scadenza per la presentazione delle domande per i buoni spese elettronici finalizzati all'acquisto di beni alimentari e di prima necessità all'assessorato dei servizi sociali del comune marsalese erano pervenute diverse segnalazioni ai cittadini e patronati che avevano rappresentato difficoltà oggettive nel predisporre le istanze nel corso del mese di agosto per questo la decisione del comune di Libertano di prorogare il termine per la presentazione delle domande Anche nell'estate 2022 la spiaggia di San Vitolo Capo ha ospitato cani labrador addestrati per il salvataggio delle persone in mare 8 e più questo è il nome dei due cani uno nero e uno color cioccolato che nel fine settimana appena trascorso guidati dai loro conduttori hanno effettuato simulazioni di intervento coinvolgendo i bagnanti l'iniziativa promossa all'amministrazione comunale è stata realizzata dall'associazione cani salvataggio di Palermo in collaborazione con la guardia costiera ausiliaria ed ora lo sport calcio si è giocata ieri pomeriggio allo stadione nuova cara di Mazzara l'andata del primo turno di Coppa Italia eccellenza tra la Mazzarese e il Mazzara è terminata 1-1 le reti sono state siglate al 63esimo da Camara per il Mazzare al 92esimo da Abaiata per la Mazzarese sentiamo avevo detto in settimana e l'ho ribadito prima della partita della tenacia e della forza di questo Mazzare che è stato costruito bene di una squadra che dirà la sua in questo campionato comunque magari c'è stato un attimino di sottovalutare quello che poteva essere un avversario, una partita facile invece lo so io e ora lo sanno anche loro che non era così e noi del resto anche nel primo tempo devo dire che abbiamo avuto tre palle gol dove secondo me con un po' di lucidità in più si poteva fare gol e nello stesso tempo in questo momento parlavamo d'altro Mazzarese è chiuso bene e le ripartenze soprattutto in una ci ha fatto male perché poi devo dire a parte nel primo tempo l'azione poi non abbiamo rischiato assolutamente nulla noi nel secondo tempo siamo calati poi per inezia e per come dire per cercare un attimino di di contrabbattere e aumentare quello che poteva essere recuperare la partita ci siamo riusciti hanno mandato esimo e poi magari se la partita è il 5-1 noi ti facciamo pure il 2-1 perché comunque abbiamo cercato di rimetterla in testa sì sì alla vigilia ci mettevamo la firma per un pareggio perché la Mazzarese la conosciamo una bella squadra organizzata un ottimo allenatore un grande staff quindi non è che dico che già eravamo scontate che perdevamo ma diciamo la differenza era si vedeva però alla fine come dici tu abbiamo l'amore in bocca perché assaporavamo la vittoria a novantesco hanno fatto questo gol che i miei giocatori dicono fra l'altro che è in fallo ma indipendentemente l'uno e uno ci sta bene poi ci sarà il ritorno la partita si gioca su 180 minuti non si gioca su 90 minuti abbiamo fatto bene abbiamo fatto bene come ho detto ieri in stampa ci credevo voglio passare il turno i ragazzi mi seguono i ragazzi hanno la cultura del lavoro lavorano tanto quindi anche se ancora siamo al 50% mi mancano i due attaccanti come sapete tutti non si possono ancora tesserare manca qualche cosa quindi va bene siamo contenti ma ancora dobbiamo fare tanto e con lo sport è tutto vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente grazie per averci seguito arrivederci grazie per aver guardato grazie per aver guardato